E ciao ragazzi da Marsala, questo oggi proviamo un mazzo sciamano, anche perchè devo fare questo sciamano, quindi Il mazzo sciamano che andiamo a provare è il mazzo Devoluzioned, un mazzo Devolve, carino Ho ancora il rank basso, in effetti sto giocando quasi esclusivamente per fare questi video o poco di più Quindi, un mazzo abbastanza simpatico con la carta Devolve che è veramente figa E quindi vediamo un po' cosa esce fuori Contro Gul'dan Salute nel mana, lupi Maleficio porta al maestro, non direi nessuna di queste al momento, anche perchè lui potrebbe essere quasi sicuramente un reno Locke, che adesso girano solo questi, quindi direi di iniziare un pochino più svelti Purtroppo non sono stato fortunatissimo Vabbè, 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 vabbè Non importa Allora, 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 Erasmus Sotto l'Erasmus Ai, 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 non mi piace questo è uno che dormicchia Su, su, su Vabbè, intanto Ammirate le legioni al mio comando Ah, mi ha detto subito un bella giocata, così Un Prince Melkazar Incredibile Sì, sparano incredibile, siamo vari Come on, come on, come on Intanto io mi sparo un Così, subito un rosico a Herston, appena iniziato Non so a che volume sta questo, poi lo vediamo Troppo alto Ok, 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 potrei non fare nulla Vabbè Turno di tristezza, ma guardate che cartace Vediamo subito che totem mi dà Anche Thanos Certo, me lascio scoperto a un Però Comunque oleo, non mi dispiace Va bene anche Thanos Speriamo che non abbia tra le sei Carte pescate fino adesso Non abbia La possibilità di ucciderlo Ok Può andare bene anche questo Anche perché Lo facciamo fuori Attacchiamo E mettiamo il totem Via, si pesca La cosa dal profondo diminuisce il suo costo Subito li trasformi in peccone Nemmeno posso insultarti Chi lo sa poi perché Blizzard non lo permette Ma forse è meglio per te Dico solo Siamo in pausa, va È arrivata Elise Elise cerca stelle Cerca un po' chi ti pare Ok, allora Elise cerca stelle Potremmo tranquillamente Pessarla così E addirittura di Thanos Ma dopo perdere la imparabilità dell'arma Chi se ne frega C'è un uso solo O lui è l'arma Preferisco pescare Vabbè, intanto peschiamo Vediamo se siamo così fortunati da No Però, insomma Va bene, uguale Eh, hai visto lo straordinario Intanto pesco ancora Caro mio amico straordinario Cerchiamo di non andare sotto Questo è già una giocata Un po' strana Per dire Ok, questa è già Ecco, sì Continua a prendere per il culo Lui tranquillamente Chi se ne frega Intanto ci facciamo Un bella Un bello elementi guidatemi E continuiamo a pescare, no? Ma sta partita in totale controllo Però adesso tranquilla Lui è Per ora molto tranquilla Sicuramente il spirito sì Va bene Va bene Va bene Bravo, bravo Erasmus Stiamo a cascare Sto cazzo Eh, la fine Sta arrivando Come disse il buon Ora Ora possiamo toglierlo Possiamo toglierlo Eh, sì Sì Lo togliamo, dai Eh, sì, sì Lo togliamo Perché Sì Preferisco quasi Costringerlo a un Costringerlo a un Massa removal Adesso Vediamo un po' Vediamo, vediamo, vediamo Sette carte in mano Per egli Che Sicuramente Ci avrà già Anche il buon Reno Jackson Ah, ok Intanto questo Infligge un danno A tutti i servitori E gioca E gioca Torissian Ah, questo è interessante Adesso è molto interessante Molto, molto interessante Sì, sì Decisamente Molto interessante Non mi basta questo Lui fa tre danni Un danno Vi posso prendere Ancora tre danni Sì Vi posso curare Ok Il pipero Non lo voglio Qui davanti Giocata tranquilla Per adesso Poi ci cominciamo A curare Per non stare sotto Combo A parte che Non penso Che l'abbia già Sviluppata La combo Liroy Jerkins E Copia Liroy Jerkins Spacco un po' Spacco un po' Un po' di uova Così Ok Butta fuori Del simpatico Cavenaccio Uno potrebbe diventare Una rana Ma Però Io dirò giù lui C'ha più due Questo fa tre danni A tutti Cosa che mi piace Come tipo di situazione Assolutamente Ok Ok Elementi Guidati A questo punto Anche uno evolve Non è male Direi che me la va No Peggio no Perché Adesso Lirà fuori Sicuramente Il master removal E io Giovo Senza volto E L'amico risucchia l'anima E Poi Dunque Questo mette fuori Tre creatore Tre due cinque E tre otto Troppi Sono troppi Sono troppi Sono troppi Quindi Non posso farlo Non posso farlo Non posso farlo Non posso farlo Adesso Non posso attaccare A8 A5 potrei salvarlo con l'evoluzione quello è vero però dopo la giocata non mi piace per niente vabbè giocati il tuo bel reno jackson giocati il tuo buon reno jackson adesso dai tanto sappiamo che ce l'hai e ricominciamo da capo ah non ce l'ha neanche non ce l'ha giocati non ce l'ha neanche e quindi vabbè andata così toma partitina flash così fatta con questo mazzetto ok oggi se ce la faccio ne metto anche un altro vediamo e per adesso magari giocando con il jade druid partiamo di vedere quanto si è allungato questo se non fosse lunghissimo dovrei anche metterlo si ne faccio un unico dai cambiamo mazzo giochiamo al tempo è giusto farvi vedere questo di mazzo alla fine no quindi potremmo anche tentare un altro match con questo si tentiamo un altro match con questo lo facciamo nello stesso video insomma alla fine un match solo fatto abbastanza corto abbastanza liscio lui comunque ci aveva un cruel reno deck solo che è ovvio che questo mazzo che ho appena affrontato è un mazzo che se non non trova reno jackson da quelle da quelle situazioni non ci esce al di là che ho controllato abbastanza la situazione non non ci esce ok qui abbiamo ok forse è un tipo di mazzo diverso forse è un tipo di mazzo diverso vediamo cominciamo di trogg a questo punto volevo andare di trogg golem ma è possibile che vado di trogg e lupi perché eh sì a questo punto direi di andare di trogg e lupi decisamente sì oppure molto più semplicemente cominciamo a levargli dalle balle tutti già da subito non sarebbe male effettivamente gli seguiamo le gambe da subito non è male neanche se caldi le gambe da subito certo c'è un turno fermo però insomma alla fine sai gli ha elevato la botta iniziale e lui infatti si è fermato di questo totem ce ne frega poco e niente ma lo levo uguale per non fargli venire comunque quello che fa il dano no ah gli ho proprio fermato completamente il gioco ma completamente proprio vabbè ok ci sei piaciuto sei stato fantastico quindi ti raggiunto temino vediamo cos'è aveva fatto una partenza lampo con i murloc con tutta sta robetta poi e infatti ecco il murloc ancora che prende anche un più uno e giustamente mi dirà giù il trogg ok mi prende giù il trogg tiriamo via e poi tiriamo giù GINYU e continuo a spararmi dei bella giocata questo e a spararmi dei benefici bella giocata e vabbè ok e a questo punto mamma potrei proprio in tutto tranquillità ma io la lana la riserverei effettivamente per ma se no leviamo tutto va gli levo tutto gli levo tutto infatti appunto viene quello della cura esatto alla fine sai che c'è leviamo tutto vabbè si in effetti mi poteva andare meglio se levavo questo non lo metto in dubbio però insomma lui ha peschiato di battaglia una bestia o un murlock scusa una bestia un drago o un murlock pescato diventa un murlock ce sta pescato vabbè e quindi se io invece adesso giocassi non altro per curare quindi effettivamente è bruttina qualcosa ci giochiamo questo ci giochiamo lui peschiamo la combo successiva mi piace parecchio quindi io direi di farla eh sì nettamente nettamente anche perché wolf è clamoroso se per quanto posso mettere giù lui aspetto il secondo il secondo wolf per il senza volto mutante cosa che lui mi sembra volermi far pescare quasi quindi è infatti ho pescato questo è quasi piacevole ok la nocchia lì mi piace fare relativamente piacere insomma ok bad day sì pensate aver trovato un mazzettino abbastanza privato di senso però ora non voglio dire niente però non mi sembra un mazzo sensatissimo questo di no insomma anche perché sta praticamente levando tutti 3 2 5 e 3 8 uno rimarrebbe fuori quindi io direi di giocarmi questo potrei addirittura fare l'evolve a questo punto quasi quasi lo faccio anche se più che altro perché così almeno gli elevo la possibilità di uccidermi questi due e evocare la cosa da umana anche se alla fine non è che ci prenderei poco e niente qui quindi va bene va andare bene anche così può andare bene anche così va bene questa poi me la spiegano perché beheh basi piene come si dice passo si si allora ragazzi se vi è piaciuto questo video mettete un link e niente due partitine molto scialle questo sicuramente era tentativo di un qualche tipo ci sta una sbustata ci sta una sbustatina andiamo al negozio e acquistiamo un pacchettino ci sta una sbustata nel video guardate che belli sti pacchetti ok una mazza fionda perfetto al prossimo video ragazzi di Airstone ciao da Marsala e alla prossima ciao